Quanto pare questa casa funge anche da ufficio di collocamento? Barca, è arrivato il momento di dire tutta la verità, nient'altro che la verità. Dici quello che pare. Se c'è sotto qualcosa di legale dallo finocchio, puoi chiamare subito un avvocato? Eh, dico. Barca, ti prego, per favore, non esagerare. Ti prego, ti prego. Ti devi preoccupare, per me ti devi preoccupare anche di te. Perché questa faccenda riguarda me quanto te. Me? Sì. Quanto te? Sì. Come dicendo tu ora me la vedo io, glielo dici tu al comissario e glielo dico io. Dimmi cosa? Sì, ora un attimo, comissario, glielo dici tu al comissario e glielo dico io. Beh, faccia così a... Comissario? Ricacchiere! Ah, io pensavo che stai capito a quella. Ti ho capito a quella. Stai zitto, mi hai detto che metti i bracciano sulla gamba e mi hai detto tu. Non so cosa che io dico io. Allora io. Cosa che metti i bracciano? C'è la gamba più buona. 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 C'è la gamba più buona.